Sì, suzuka, pista difficile per me che non riesco a tirar fuori niente Allora sono sedicesimo, come ho detto non riesco su sta pista, faccio fatica e provo a fare l'ultimo giro miracoloso ma è difficile 30 secondi al termine della sessione 3 decimi, 3 decimi, ma non bastano, ero sotto più di un secondo e mezzo Awww Già settesimo ragazzi, che schifo Allora, già che ci sono metto il motore nuovo, tanto devo partire dal fondo Allora, prendo la penalità Tutti i componenti nuovi Per le ultime 4 gare Mi aiuterà parecchio sto motore nuovo La gara bagnata, eh, una gara bagnata Tutta con l'intermedia E un giro soltanto Di extra E un giro soltanto Ma dai, su allora aggiornamento caro passiamo il panalino di coda ai giù avanti abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione quella era l'ultima mancano 13 giri grazie a tutti Abbiamo ancora molta energia in riserva, usa il tuo passo. Sì, non capisco. Veramente, non lo so, la seconda macchina come livello di prestazioni fa schissimo, quindicesimo, ventesimo, rispettativa. Sì, non capisco. Sì, non capisco. Sì, non capisco. Il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Forza, dobbiamo tentare il sorpasso. Sì, non capisco. Sì, non capisco. Sì, non capisco. Ok, distanza dal compagno di scuderia. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di tre decimi a giro. Vabbè, tanto la gara è andata puttana, non va la macchina, non so perché. Non gira, non gira, non gira, ragazzi. Pressione delle gomme tra quarta. Questo qua lo fa schifo, adesso ho capito. Allora. Allora. 90 gradi sul bagnato è troppo, ragazzi. Deve stare 60 gradi almeno. Qui 60. Pressione da qua. E. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le previsioni attuali sono di circa 5-10 minuti di pioggia prima che si asciughi. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Grazie a tutti. Non va la macchina e non lo può capire. Grazie a tutti. 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 Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 25,2 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 kg. Grazie a tutti. 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 Abbiamo carburante. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 kg. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 kg. la batteria è carica. La batteria è carica. E' carica a sufficienza per la batteria è carica. E' carica. E' carica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei all'ultimo giro. Grazie a tutti. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.